Sei ambizioso? Hai un'idea imprenditoriale ad alto contenuto tecnologico? Con questo breve video ti spiegherò i requisiti e le modalità per avviare e costituire una startup innovativa. Quali sono i vantaggi di una startup innovativa? Primo vantaggio è un esonero dal pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio in cui è iscritta la startup. Assunzione di personale dipendente con vantaggi e agevolazioni fiscali. Il terzo è la possibilità per la startup della raccolta fondi a mezzo crowdfunding. Quarta corsia preferenziale per lo sviluppo estero della startup a mezzo ICE. Incentivi fiscali sulla sottoscrizione e conferimento di capitale nella startup. Deroghe importanti alla disciplina delle società di comodo. Esonero dall'obbligo di applicazione del visto di conformità su crediti fiscali superiori a 5.000 euro. Ed infine la proroga del termine triennale di copertura delle perdite. Ci sono due strade per costituire una startup innovativa. La prima è recarsi dal proprio notaio di fiducia. La seconda strada, che è quella più innovativa e meno costosa, ti permette di costituire la startup direttamente da casa tua. Puoi comodamente collegarti sul sito della Camera di Commercio competente e terminare la procedura di iscrizione. La società, costituenda, dovrà avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente quello della produzione, commercializzazione e sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico ed innovativo. Oltre a questo requisito fondamentale necessario per la startup, devi averne anche uno di questi tre. Uno, la società deve spendere almeno il 15% dei ricavi totali in ricerca e sviluppo. Due, un terzo della forza lavoro deve essere in possesso del dottorato di ricerca. Oppure, due terzi della forza lavoro deve essere in possesso della laurea magistrale. Tre, la startup innovativa risulta titolare o licenziataria di un brevetto innovativo. Rispondo ad una domanda frequente. Una SRL già costituita può essere startup innovativa? La risposta è sì, se costituita da non più di quattro anni. Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale YouTube e segui i nostri aggiornamenti sul sito internet. Grazie.